Come sempre, ogni fine settimana l'attività dei militari d'allarma della compagnia di Vittoria è quanto mai intensa con i reati che vanno in particolare dallo spaccio di sostanze stupefacenti al mancato rispetto del codice della strada. In particolare i militari d'allarma hanno intanto denunciato un bracciante agrivo albanese di 37 anni perché sorpresa la guida della propria autovettura, una SUV Land Rover, sprovvisto di patente di guida per non averla mai conseguita. Sono stati inoltre denunciati alla prefettura anche due vittoriesi rispettivamente di 18 e 21 anni, il primo, residente a Comiso, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nello specifico due grammi complessivi suddivisi in quattro involucri. Il secondo invece, residente ad Acate, pregiudicato nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spinello intriso con hash per un peso complessivo di tre grammi. Durante i servizi di controllo del territorio, inoltre, i carabinieri hanno elevato 12 contravvenzioni per inflazione al codice stradale, hanno decurtato cinque punti dalle patente di guida, ne hanno sequestrato due di patente e infine hanno anche sequestrato due automezzi.